C'è stata un'invasione ad Arkham e i folli si stanno riversando nelle strade di Gotham. Batman deve catturare tutti i fuggiaschi. In queste missioni dei laboratori Star d'Injustice, voi dovete aiutare il vostro amico Batman, il Cavaliero Scuro, a sconfiggere tutti questi criminali. Questi nemici che state guardando sono Due Facce, Killer Croc, il Pinguino e lo Spaventapasseri. I loro veri nomi sono Harvey Dent, Waylon Jones, Oswald Cobblepot e Jonathan Crane. Mi raccomando ragazzi, io vi saluto, ma ricordatevi di aiutare Batman a catturare tutti i fuggiaschi. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Le missioni di Batman sono lì che vi aspettano. E io aspetto le vostre iscrizioni, i vostri aumenti. E come sempre facciamo le cose intelligenti.